Salve due, amo un buon, voglio fare un applauso al patrullo del Mario Casamai, chi ci ha fatto ritornare la NM dopo 5 anni, un lungo più verde, bravo che l'alzino è la Russia. E iniziamo la serata, speriamo che finisca a salarti, mi raccomando a voi, come sono sempre lo stesso, che ho avuto una domanda, ma questa è la casa vostra, la serata vive! Grazie a tutti!